Ciao ragazzi, oggi voglio informarvi di un problema attuale, quello della clonazione dei conti correnti. Se il video vi sarà utile, ricordate di farmelo sapere con un mi piace sotto questo video e guardate il video fino alla fine per non perdervi nessuno stato a gemma. Detto questo, partiamo, ma prima, sigla! Ogni volta che tra amici tiro fuori il portafoglio vengo guardato in modo strano, per via di come è fatto e di come funziona. Tralasciamo però il punto di vista estetico, anche se secondo me è molto bello, e concentriamoci piuttosto sulla sua utilità. Purtroppo è sempre più diffusa e semplice la pratica di clonazione delle carte. Per intenderci, una carta può essere clonata tramite la lettura del suo chip, oppure, aspettate che copro i dati, tramite la lettura della banda magnetica. Anche se in realtà ora non si usa più effettuare pagamenti tramite banda magnetica e alcune carte non la presentano nemmeno più. Il problema però è che questi dispositivi che permettono di clonare una carta sono diventati sempre più piccoli e facili da nascondere. Addirittura può essere utilizzato un semplice telefono. Se fate attenzione quindi, non viene difficile pensare che possano essere nascosti in uno zaino o anche semplicemente in tasca, e un individuo semplicemente passandoci a fianco può clonare la nostra carta e di conseguenza farci perdere tutto il suo contenuto. Ovviamente si spera più soldi possibili. Ma quindi ragazzi, io perché uso questo portafoglio? Semplicemente perché mi protegge dall'inconveniente spiegato prima. Infatti, questo contenitore di alluminio, oltre a proteggere le carte da danni accidentali, le scherma anche da qualsiasi connessione wireless esterna, quindi ne evita la clonazione. Ci tengo solo a specificare che questo video non è sponsorizzato, ma vi sto illustrando il funzionamento di questo portafoglio solamente per la sua utilità. Inoltre, vi lascerò in descrizione un link non affiliato, quindi io non ci cura in assolutamente nulla, ma che vi riporterà comunque al sito di Amazon per dare uno sguardo a questi portafogli. Detto ciò però, questa non è l'unica soluzione, quindi se non volete un portafoglio del genere, sempre su Amazon è possibile trovare delle tessere che se inserite a inizio e fine di un portafoglio tradizionale, Ora, purtroppo, io non ho queste tessere, però posso dirvi che inserendole da un lato e dall'altro del vostro portafoglio andranno a schermare le esterne, quindi le vostre carte all'interno saranno comunque protette. Un altro escamotage che utilizzo io, ma che per molti è ancora un tabù, è quello di utilizzare Apple Pay, che come dice il nome è solo per utenti iOS, ma vi è la possibilità di utilizzare uno strumento simile, ovvero Google Pay, che è proprio della Google ed è per utenti Android. Tornando a noi, questo mi permette di andare in un negozio fisico e di pagare senza dover tirare fuori le mie carte. Questo è fantastico perché sono sicuro di avere i miei conti protetti. Il funzionamento è questo. Quando si effettua un pagamento, in questo caso parlerò specificatamente di Apple Pay, questa utilizzerà un numero specifico e un codice di transazione univoco. In pratica, quindi, i dati della carta non vengono salvati né sul vostro dispositivo né sui server di Google e non saranno nemmeno scambiati con il commerciante, bensì vengono scambiati questa coppia di numero e codice univoco. Detto ciò, ricordate di fare sempre attenzione, perché basta informarsi un attimo e potete vedere come queste carte non sono inviolabili. Fatemi sapere se anche voi utilizzate questi sistemi per proteggervi oppure se ne conoscete altri. Lasciate like se questo video vi è piaciuto o vi è stato utile e iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Se lo fate, siete fantastici. Io vi saluto e ciao ragazzi! Grazie a tutti!